Domenica a Bonnoir, la rassegna dedicata alla letteratura e alla cronaca nera italiana, ci occuperemo del caso di Elisa Claps. Potenza, 12 settembre 1993. È domenica mattina. Elisa Claps, una ragazza di 16 anni, esce di casa con un'amica per andare a messa. Da quel momento si perdono le sue tracce. La famiglia l'aspetta per pranzo. Non sa ancora che dovrà aspettare 17 anni per poter seppellire e piangere i suoi resti. La famiglia l'aspetta per pranzo.